siamo con l'attaccante rosso blu simone tomassini contro il tivoli gol vittoria insomma la classica domenica perfetta si è stata una bella domenica da incorniciare davanti a un bellissimo pubblico è stata la prima in casa in campionato dai molto siamo stati molto contenti della prestazione di come è andata la partita quindi bene così da un buon inizio che effetto ha fatto giocare davanti a più di 6.000 spettatori rivela delle palme bellissimo è un'emozione poi fare il gol sotto la nord è stato ancora ancora più emozionante è stato stato davvero bello ed è una cosa che quando inizia a giocare a calcio sogna da bambino quindi nonostante la categoria penso sia una bellissima soddisfazione adesso però testa subito ad avezzano che partita sarà sarà sicuramente una partita difficile contro una squadra che ha delle importanti individualità però come al solito sarà una classica partita da combattere fino alla fine ce la metteremo tutta per te già due gol ma anche tanto lavoro sporco per la squadra quanto è più importante per te il concetto di noi piuttosto che l'io credo che sia sia il primo posto anche per le per le mie caratteristiche l'idea principale per me è quella di mettermi a disposizione della squadra e dei compagni dopo se riesce arrivare anche il gol è ovvio che faccio l'attaccante è il mio obiettivo però principalmente viene la vittoria di squadra grazie a tutti